barelliere volontario da molti anni accompagno i malati all'urdo come barelliere volontario un mese fa ho partecipato a una funzione religiosa dove ho visto una suora di clausura che pregava era di una bellezza sconvolgente appena ho potuto le ho chiesto sorella qual è il suo nome io non nome mi ha risposto quanti anni ha io non ho età mi ha risposto commento ecco la consumazione dell'io